Siete qua? Ciao ragazzi e benvenuti su Michael Old Jersey. Oggi vedremo insieme la prima maglia del Real Madrid per la stagione 22-23, cioè la prossima stagione, in edizione FAN. La divisa casalinga del Real per il 2022-23 sarà come di consueto prodotta da Adidas e riporta una combinazione di colori classica ma straordinaria. Dopo più di un decennio la maglia di casa del Real Madrid torna a combinare l'iconico colore bianco del club con il nero e il viola. Per questa stagione Adidas opta per un colore viola pallido. Il logo Adidas e il logo dello sponsor sono neri e tre strisce light purple. Il kit casalingo del Real Madrid viene fornito con un colletto abbottonato. Alcuni sottili stemmi del Real Madrid sono impressi nel tessuto. La maglia del Real Madrid ha sempre un fascino eccezionale. Secondo me è molto bella ma, nella mia classifica, per questa volta questa prende solo tre stelle. Un po' troppo classica, devo dire. Però è una maglia da avere, tra l'altro dei freschi campioni d'Europa della stagione scorsa. Mi sembra 14 Champions League o qualcosa di veramente impareggiabile al momento per chiunque altro. La maglia comunque è fatta molto bene, perfetta in ogni dettaglio, non dà un pastiglio alle cuciture, le patch sono giuste, i colori sono corretti e la trama della maglia perfetta. Incredibile si trovi al costo che vedete qui sopra. Prima di lasciarvi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia che ha anche una spedizione molto veloce. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Spero che possiate regalarci un like ed iscrivervi al canale per vedere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.